La tradizione non tramunta mai Natale, non è una festa che fa rima con sperimentazione, anzi proprio il contrario. La tavola dei partenopei è un inno alla qualità ma anche alla storia millenaria della città. I piatti della tradizione sono quelli che in tutte le case arrivano sulla tavola imbandita. Lo spaghetto con le vongole e il baccalà sono di sicuro il primo e il secondo di pesce più gettonati la sera della vigilia. A proporci le ricette lo chef Rosario Izzo e il So Staff di Napoli 1820. È un piatto della tradizione natalizia però la cosa molto importante è fare soffriggere bene l'aglio, soffriggere anche un po' di prezzepolo per dare più sapore e usare un prodotto con una vongola verace e non altri tipi di vongole e non bisogna salarlo. Si mangia tanto alla vigilia e quindi abbiamo pensato di fare un baccalà scottato con delle cimette di friarielli saltate in padella. Accanto ai primi ecco i contorni come la manestra ammaretata preparata da Peppe Maiorano della chitarra e la frittura all'italiana dello chef Gramaglia. La manestra ammaretata viene preparata con un misso di verdure e con un modo fatto altrettanto con carni misse. Normalmente si usano il maiale, il manzo e il pollo, la gallina in questo caso. Come verdure ne dobbiamo usare minimo sette. Scarolella, le puntarelle, la borraggine, i broccoli, le torselle, la verza che poi vengono lessate un poco per volta a secondo della loro cottura, poi vengono mischiate e messe nel brodo. Se la frittura è fatta in pastella e prima della pastella è ripassata della semola e dell'olio è quello giusto a temperatura giusta per immersione, non avrà mai contatto con l'olio perché la temperatura sigilla tutta, la rende croccante, adorabile, asciutta. Menzione a parte per la pizza di scarole che Maria Cacialli della figlia del presidente realizza così. Noi facciamo una scarola classica con le olive nere, un pecorino romano grattugiato e provola affumicata. Per concludere il pasto è immancabili, i dolci del caffè Gambrinus e il caffè di Vincenzo Rosano. Il caffè dopo pasto, soprattutto dopo un cenone del genere, è d'obbligo per parenti e amici, per persone che si vogliono bene e noi offriamo questo tipo di caffè fatto di caffè nero, crema di latte densa e cacao amaro.